Il piano per le infrastrutture per una mobilità sostenibile, incominciato nel più ampio piano di ripresa e resilienza, prevede un importante investimento nelle infrastrutture ferroviarie in Sicilia. Oggi è stata pubblicata la gara per la realizzazione di un altro tratto del progetto ferroviario Palermo-Catania-Messina. Si tratta del collegamento ferroviario Nuova Enna-Dittaino del valore di 719 milioni di euro. Un altro importante passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale ferroviario della Sicilia, commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Giancarlo Cancelleri. Voglio ricordare che la realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, dice Cancelleri, è un'opera finanziata anche con i fondi del PNRR. è inserita tra le opere strategiche nazionali determinati con decreti di questi ultimi governi, continua il sottosegretario. Sono contento di vedere che stiamo procedendo nei tempi per i vari step di tutti i lavori infrastrutturali programmati per la Sicilia. Ciò, conclude Cancelleri, vuol dire riuscire a consegnare il prima possibile queste opere ai siciliani.